ma porca miseria ma sono due stessono 21 nel bagno non so ragazzi ragazzi io ragazzi ma ben le armi loro sì allora gli fa poco ma non vuol dire niente ragazzi avete preso comunque un'altra persona a cui stimo eccetera eccetera cioè è come se io mi metto a giudicare una persona così a caso la chiamo merda vado a fare pipì che è meglio oh austria hello thank you ok duke thank you duke hello water boy thank you very much thank you grazie mille hello hello torzilla italy hello 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 voleva restare ma l'ho preso in testa veramente col car e l'ho ucciso eh sì sì e insomma sono scorsa con i cicchini ok ok ho vinto ma l'ho vinto madonna mia sono troppo forte sono troppo forte poi dite l'M4 poi dite l'M4 sono troppo forte e che cosa non mi piace più questo qua non mi piace più basta No, 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 questo sta col Bologna Quest'abito Quest'abito è pro Bologna No, no, quest'abito è pro Bologna ragazzi Non mi sta piacendo Non mi sta piacendo ragazzi